Adi deve internazionalizzare il proprio punto di vista così come le aziende italiane per sopravvivere alla crisi che ormai è una transizione. Il premio compasso d'oro internazionale è un premio tematico che a differenza di quello nazionale che è un premio di esame trasversale ha un compito ogni due anni di individuare dei temi strategici su cui fare il focus. Quest'anno è stato doveroso partire dal tema coincidente con Expo e proprio con Expo ci sarà la presentazione del concorso e la premiazione che avverrà attorno alla metà di giugno.